Per una grazia delle persone che non siamo stati interamente distrutti perché le sue compassioni non sono esaurite e si rinnovano ogni mattino. E una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti perché le sue compassioni non sono esaurite. Grande è la sua fedeltà. Una cosa è aspettare il silenzio, la salvezza dell'Eterno Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza del nostro Dio Buona cosa è La salvezza La salvezza La salvezza La salvezza Buona cosa è La salvezza 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 La salvezza